...regionale 18 4 7 3 di Tremitalia, proveniente da Luce e diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 12 e 46, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta, fermato Cari, Alto Passo, Monte Carlo San Salvatore, Fischi, Urba Luciani, Monte Carlo San Salvatore, ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.